Marco Travaglio, allora come era prevedibile il Qatargate a Bruxelles si sta allargando oggi la procura belga ha parlato di più parlamentari, europarlamentari che sarebbero sul libro paga dei catarioti e tu oggi fai un pezzo molto duro sulla sinistra italiana e la legalità ma ci sono già abbastanza elementi per così attirare in ballo la sinistra italiana sulla questione morale? Fermo restando che la destra è fuori concorso ieri hanno avuto l'ennesimo ex senatore di Forza Italia condannato per concorso esterno in mafia, in Cassazione l'hanno portato in Parlamento non so quante volte, non ne ha parlato nessuno perché lì diamo per scontato che l'illegalità fa curriculum anziché essere un problema non è che la sinistra è responsabile tutta quanta di quello che hanno fatto alcuni suoi europarlamentari c'è però un atteggiamento nella sinistra che in questi anni è stato confuso con il garantismo e che non c'entra niente con il garantismo e che è una certa indulgenza, una certa autoassoluzione di tutti i casi che si sono verificati negli ultimi 30 anni ogni volta era o una mela marcia da isolare poi si scopriva che era marcio pure l'albero e poi c'erano sempre delle scuse c'erano quelli che si appropriavano di denaro pubblico però sono buoni, sono bravi perché hanno fatto le unioni civili perché hanno fatto, non lo so, accolgono i migranti quindi poi ci sono quelli che rubano, sì però rubano per il partito non rubano per se stessi, come se fosse una grande consolazione che un partito si possa reggere su dei furti si sono inventate una serie di cose che nella vita normale fanno ridere per rinviare sempre una discussione ed è una discussione che non c'entra molto col fatto penale in sé che differenza c'è fra Renzi che prende i soldi dall'Arabia Saudita per parlare bene di un regime di taglia gole e i parlamentari europei che prendono soldi dal Qatar per parlare bene di un altro regime di taglia gole che uno fa fattura perché siede in Senato l'unico luogo al mondo, credo, dove un parlamentare possa prendere soldi da uno Stato estero mentre gli europarlamentari non possono fatturare perché lì quelle robe non si possono fare lecitamente e quindi devono prendere le valigie, i sacchi, eccetera quindi non è un problema di chi ha fatto dei reati di chi non ha fatto dei reati è un tema che è scritto nel nostro articolo 54 della Costituzione chi ricopre cariche pubbliche deve svolgerle con disciplina e onore e che Berlinguer aveva declinato nella famosa intervista a Scalfari dell'81 non parlando di mazzette perché dava per scontato che le mazzette sono un fatto criminale se ne occupa la magistratura lui si occupava di un altro tipo di malcostume che è la questione morale che è il grande insieme dentro il quale poi c'è la microporzione della questione penale cioè di tutti quei comportamenti che non sono reato ma che sono indegni di chi ricopre cariche pubbliche e parlava di conflitti di interessi parlava di lottizzazioni di posti dei partiti che si erano mangiati le asle, i musei, i centri culturali tutti i gangli della società per sistemare i loro uomini facendoli passare davanti a cittadini magari molto più meritevoli ma senza tessera questo è il tema che la sinistra ha sempre evitato ed è strano perché l'aveva lanciato proprio Berlinguer evidentemente perché lui se lo poteva permettere stasera il leader dei 5 Stelle Conte ha detto che il Qatargate è il più grande scandalo delle istituzioni europee ma che il governo italiano risponde rendendo la vita più facile a corrotti e corruttori cosa c'entra il governo italiano con il Qatargate? Beh, è un po' il confronto che facevamo tra quello che succede a Bruxelles e quello che succederebbe a Roma a parità di comportamenti mettiamoci nei panni di uno dei politici con le valigie piene di soldi l'abbiamo detto a Iosa ma va ripetuto se tu sei pieno di contanti e non puoi depositarli in banca perché sennò te li tracciano e ti chiedono dove li hai presi e li devi spendere se non li puoi spendere perché è vietato pagare in contanti sopra 1000 euro non ti passa più prima di averli riciclati tutti se puoi spendere fino a 5000 euro già è un bel vantaggio è molto semplice idem ieri in Parlamento mentre a Bruxelles ci si domanda come fare a rendere più difficile la corruzione e più facile la sua scoperta e la maggioranza approvava sempre dentro questo decreto rave che è diventato ormai un refugio, un peccatorum una specie di discarica una norma che riconcede ai corrotti ai corruttori ai peculatori cioè ai ladri di denaro pubblico i benefici penitenziari che sono stati tolti nel corso degli anni persino ai contrabandieri a un certo punto adesso l'Italia ha un problema di contrabbando più grave della corruzione io ho l'impressione che sia più grave la corruzione e invece se uno viene condannato per contrabbando non ha i benefici penitenziari cioè sta in galera e chi viene condannato per corruzione grazie a questa maggioranza ritorna a uscire di galera cioè ad avere una sentenza di condanna che è finta perché c'è scritto pena detentiva e di detenzione non fa nemmeno un minuto di galera a me ha molto colpito l'ho scritto nel pezzo di stamattina il fatto che Berlusconi ha approvato una trentina di salvaladri e il centrosinistra quando andava al governo dopo Berlusconi non ne ha mai cancellato nemmeno uno il primo a cancellare i salvaladri di Berlusconi è stato Bonafede e il PD votò contro paradossalmente votò a favore la Lega alla spazzacorrotti il PD votò contro e adesso il PD su certe cose di Nordio è assolutamente d'accordo perché evidentemente hanno paura è certo tanto per cambiare quindi il tema è vogliamo rendere reali le condanne che arrivano dopo duemila anni tra mille gincane superano la prescrizione finalmente riusciamo a condannare qualcuno c'è scritto che deve fare quattro anni di galera e da ieri hanno deciso che i quattro anni sono finti e cioè che chi deve fare quattro anni di galera non la vede nemmeno col binocolo o in cartolina ma è questo il modo di combattere la corruzione io lo trovo incredibile Marco Travaglio la pacchia è finita per Giorgia Meloni e le sue norme sul contante e le sue norme fiscali ma io non sono di quelli che giudicano le manovre finanziarie in base a quello che dice la Commissione Europea la Commissione Europea ha avallato delle riforme orrende nel corso degli anni che si sono rivelate devastanti mentre ricordo che bocciò quella che conteneva il reddito di cittadinanza e quota 100 due riforme che io ritengo ottime agli europei ai burocrati europei interessa che noi spendiamo poco e quel poco che spendiamo lo spendiamo a vantaggio delle lobby quando si fanno degli investimenti nello Stato sociale in Europa strillano è sempre stato così la stessa cosa fece Banca d'Italia che tre anni fa criticò il reddito di cittadinanza e adesso critica il governo che lo toglie quindi io tutta questa sacralità di questi grandi tecnocrati che ci azzeccano sempre non ci azzeccano quasi mai quindi io preferisco giudicare le manovre da quello che vedo e penso che questa sia una manovra preoccupante perché attacca i poveri favorisce soltanto una parte della cittadinanza e cioè le partite IVA con la flag tax allargata e crea delle autostrade per l'evasione fiscale e per l'illegalità poi a me di quello che dicono gli europei non me ne frega assolutamente niente anzi di solito la commissione europea boccia le manovre migliori e approva le manovre peggiori ecco però se chiudono i rubinetti per noi è un problema Silvia Borrelli condividi questo giudizio un po' tranchant di Marco Travaglio ma non lo condivido nella misura in cui la commissione europea quando boccia le manovre come quella del governo appunto giallo-verde è perché aumentano a dismisura il debito pubblico giustamente il reddito di cittadinanza che è una misura che anch'io condivido era una misura che veniva introdotta con un aumento del debito pubblico all'epoca non c'era ancora la sospensione del patto di stabilità quelli erano comunque partiti euroscettici che avevano diciamo deciso di entrare in conflitto aperto con Bruxelles secondo me Bruxelles giudica i criteri che poi è quello che deve fare secondo le regole che diciamo si applicano a tutti i membri dell'Unione Europea quindi il problema è l'aumento del debito pubblico come vengono finanziate le misure non è tanto la bontà della singola misura da un punto di vista politico Marco Travaglio credo anch'io che sia un po' così voglio chiedere no perché no perché la finanziaria del 2018 su cui furono minacciate due procedure di infrazione poi saltate aumentava il deficit del 2,04 previsivo e a consuntivo si scoprì che aumentava addirittura di meno quindi era una pura dichiarazione di guerra per puri fini politici no no era il 2,04 ricorderai bene e alla fine si rivelò addirittura inferiore ed era una guerra politica fatta contro due partiti che non appartenevano alla famiglia socialdemocratica e popolare europea quindi era una misura di intolleranza nei confronti di chi non si allineava era un 2,04 che poi con un colpo di genio diventò un 2,04 dopodiché si misero a cuccia quando grazie ai voti dei 5 stelle fu eletta la Golden Lion a cuccia